Buongiorno a tutti i giorni della Giornità di Calerno, del Sistema di Napoli, e vorremmo un bel canale di uno dei bambini nella scorsa amministrazione di Caso del Mezzo, di Cotena, 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 di Cotena. Buongiorno a tutti i giorni della Giavanile, anche quest'anno, nell'organizzazione di questa giornata, e sentivo la necessità di garantire a tutti che altro che orfano, il movimento giovanile non avrebbe la di un centimetro rispetto alle posizioni che ha conquistato in questi anni. Continueremo a fare politica, continueremo a sbagliare con l'attività che è la più alta e la più nobile, che un uomo possa dedicare ad altri uomini, starà una vita buona che una volta tanto staccia quella cattiva. Il movimento giovanile è un draffello orbitabile nell'unico organismo di partecipazione che questa città può mandare, il forum della gioventù, il quattro passo ha creato questa stessa comunità nella vostra amministrazione. Saremo spina di spiante di questa amministrazione attraverso questo organismo di partecipazione. continueremo a conservare la capacità di sognare come ci è tolta sempre un ministro amica nostra e come ci è tolta sempre getteremo il cuore oltre l'ostacolo per cercare di continuare ad essere un punto di riferimento a questa vita. Vi ringrazio. grazie a tutti.